Ciao a tutti ragazzi, bentornati non gamer come voi, partiamo subito con un pacchetto 5 giocatori ora orario 84+, vediamo se è walkout Portiere del Barcellona, Sandra Pagnos, 87, sono doppio walkout ragazzi C'è anche Rodri, 89, ottimo ragazzi, sempre buoni per l'SCR, andiamo avanti Uh, Diogo Costa, Totwick, 85 di overall, bene così E anche Onana e la Kirby, bel pacchetto ragazzi Ragazzi guardate che gol che ho fatto con Robert Pires in Division Rivals Palla all'incrocio dei pali, è lontanissimo ragazzi Altro pacchettino tra i giocatori ora orario 84+, argentino attaccante dell'Inter, questo è Lautaro Martinez 87 di overall Sempre buono per l'SCR, con la Campbell e Grealish Ragazzi andiamo a prenderci anche Doomfries, 85 Eccolo qui Doomfries Non lo utilizzerò ragazzi, però assolutamente una buonissima carta Doomfries, gialli invernali Garzino destro, esterno destro e ADA, bei dettagli attributo E 5 stili di gioco tra cui passaggio atteso plus, blocco, rapido, passo veloce e rimessa lunga Utilizziamo un po' di giocatori trovati ragazzi Andiamo a prenderci anche Davor Sucker completato Ed ecco qua un'altra icona Godiamoci il walkout ragazzi Croato AS Con overall di 89 Icona jolly invernali Sucker Ottime statistiche ragazzi Eccolo qui Sucker AS che può fare anche l'esterno sinistro Massabilità 4, più debole 4, più esplosiva Con 90 di velocità, 85 di tiro, 81 di passaggio, 89 di dribbling E 77 di fisico, 4 stili di gioco Tra cui anche passo veloce plus Ottimo giocatore Sucker Questa è la formazione rivista al momento ragazzi Andiamo a prenderci i premi delle Rivals Direi assolutamente opzione 1 ragazzi Pacchetti scambiabili Andiamo a prendere l'opzione numero 1 Divisione 5 Ci rimanda in divisione 6 immagino Eh si, piazzamento celebrazione Rivals Divisione 6 Andiamo a aprire i pacchettini scambiabili Qui non c'è niente di che ragazzi Andiamo avanti ragazzi Pacchetto rinforzi oro rari Sempre scambiabile Spagna, centrocampista centrale del Barcellona Ok, Liga femminile Patri Guiaro 88 di overall Scambiabile, ottimo Varrà intorno ai 20.000 crediti ragazzi Secondo me Centrocampista centrale del Barcellona Buonissimo overall Anche delle ottime statistiche Scambiabile, vediamo quanto vale Sui 30.000 circa 25.000 Varrà intorno ai 25.000 crediti Mettiamo anche rabbio sul mercato E poi nulla di che ragazzi Scartiamo Armanni E andiamo avanti Ultimo pacchetto Dei premi Rivals Questo è un Tot Week ragazzi Portiere brasiliano Sì, Tot Week Jonathan Scambiabile 83 di overall Andiamo avanti E nient'altro di più Comunque vale intorno 30.000 crediti Mettiamolo un po' sotto Così lo vendiamo anche Velocemente Scartiamo Tutti i giocatori inutili Ragazzi Così ci facciamo un po' di crediti Ed eccoci qui ragazzi Allora avete visto Una carrellata di eventi Che sono Successi Andiamo a vedere un attimo Questa è la formazione Per completare gli obiettivi Vi faccio vedere Vi faccio vedere la mia nuova formazione Ragazzi ho fatto una formazione Icon Avete visto negli scorsi episodi La Smith Hernandez Diretso ovviamente L'inizio puntata Il gol incredibile Qui abbiamo Coimans Sbloccato dagli obiettivi Trezeghe SCR Kakà Nel ventiquattresimo episodio L'abbiamo trovato nel pacchetto Icon Berkamp Comprato Zucker L'avete visto ad inizio episodio Qui abbiamo Nesta Comprato Paresi Ioriz Nell'SCR L'unico Non Icon E poi Come sostituzione ragazzi Abbiamo Courtois Van Dijk Labacha Chaka De Bruyne Toti In prestito Ozyman E Holland Toti In prestito Poi tanti altri giocatori Molto forti ragazzi Bruno Fernandes Bernardo Silva Salah Stones L'H Toto Valutazione di 91 Intesa totale 33 su 33 Tutti con uno stile di gioco plus Ragazzi Oggi proviamo proprio La formazione Icon Andiamo allora A provare questa formazione Icon Manca ovviamente Solo il portiere Ragazzi Siamo in divisione 6 Ragazzi Come avete visto Inizio puntata Questa è la formazione Lasciamo Ioris Quando riuscirò ragazzi Arrivare intorno ai 400.000 crediti Di nuovo Andiamo a prenderci Peter Cek Toti Quindi Icona Toti Qui al posto di Ioris Primo momento ragazzi Formazione stupenda Andiamo a giocare La prossima partita Ed eccoci qua ragazzi Si inizia Contro Rivo Vediamo che formazione Non ha fatto male ragazzi Sono due gli avversari ragazzi Due contro uno Noi con Maglia bianca Sulla destra ragazzi Avversario con Divisa nera Vediamo questa Formazione Icon Come si comporta Prima volta che la provo ragazzi Bella palla di Bergkamp C'è Smith C'è Hernandez In mezzo Lo vediamo Il primo call Di Hernandez Ragazzi Si parte subito Così Numero 10 1-0 E che palla Della Smith ragazzi Prima partita Per la formazione Icon Vediamo se riusciamo a vincere Ragazzi 2-0 Ragazzi Che azione Andiamo a berci Il teino Ragazzi Attenzione del Piero Uh Paratona Ma è rigore Ragazzi Fallo di Pires Sono stato lento Stavolta Attenzione che può Riaprire la partita Salah Contro Ioris Eh Mi ha beffato ragazzi 2-1 Si riapre la partita C'è Ioris All'ultimo minuto Il primo tempo Attenzione ragazzi 2-1 Del Piero va via Palla dentro E c'è Trezeghe Cerchiamo di buttarla via E chiudere il primo tempo Ragazzi Almeno in vantaggio 2-1 Perfetto Andiamo subito al secondo tempo Ragazzi Allora la squadra È messa ancora bene Direi di lasciarla Ancora per Tutti gli undici Presenti Nel primo tempo Dopodiché Se riusciamo Ad allungare Le distanze Con l'avversario Di segnare almeno Altri due gol Cerchiamo di mettere Un 4-4-2 Facciamo un po' di cambi Ragazzi L'avversario comunque Forte ragazzi C'è anche KK di fianco Può andare Pires KK Mamma mia ragazzi Che brutto tiro di KK Andiamo a fare qualche cambio ragazzi 4-4-2 Togliamo KK E mettiamo La bacia Mettiamo Osimène davanti Posto della Smith Mettiamo Van Dijk Direi a posto così ragazzi Holland De Bruyne Possiamo provare magari Chaka Al posto di Bergkamp Direi a posto così ragazzi Non voglio utilizzare Holland De Bruyne In prestito C'è Hernandez che parte Velocissimo Mamma mia Hernandez da solo Il tiro a giro Chiuso all'ultimo Da Ederson L'ho visto uscire all'ultimo Ragazzi Contro Van Dijk Palla per Osimène Che aggancia malissimo E finisce molto probabilmente Con la partita ragazzi E finisce qua 2-1 Grande partita E grande vittoria Di questa Icon Squad 2-1 contro Black Anas Arrivo Prima vittoria Come potete vedere Prima partita ai Rivals E andiamo a prenderci Allora Perché stavo aspettando Proprio questo momento Ragazzi Stagione 4 Stagione 4 Atto primo Celebrazione Andiamo a prenderci Tevez ragazzi Andiamo a goderci Questo walkout Una bella carta Eroi UEFA In prestito Tevez Con un overall di 90 88 di velocità 91 di tiro 83 di passaggio 89 di dribbling E 91 di fisico Peccato ragazzi In prestito Quindi nessuno Overall Andiamo a vedere I premi di questa Stagione 4 Ok bonus crediti Pacchetti Il tema Carlo Stevez Tifo Tema stadio Il cartellone Tifo XL Poi abbiamo Brandt Menzioni Donore Toti A livello 10 Per una Bundesliga Sicuramente un buon Centrocampista Offensivo Può fare anche Centrocampista centrale Esterno destro Esterno destro Secondo me è molto lento Ragazzi Quindi o centrocampista Offensivo O centrocampista centrale Anche se ha un fisico Un po' basso Non la utilizzerei io ragazzi Come carta Poi abbiamo Riese Al 12esimo livello Gran bella carta Anche per una Premier League Emo Rosicchi Sempre per una Bundesliga Buon centrocampista Offensivo Centrale Può fare anche lui Esterno destro Al centrocampista centrale Poi abbiamo Bear Camp All'ultimo livello Che abbiamo comprato Ragazzi noi Ed è un buonissimo Centrocampista centrale Polivalente Perché può fare anche Esterno destro Esterno sinistro Sicuramente un po' lento Per fare Esterno destro Esterno sinistro Oppure pacchetto 20 giocatori Orrere 84 Più O 4 giocatori 87 Più Vedremo quando Arriveremo in fondo A questa Quarta stagione Attoprimo Quindi niente Walkout di Tevez Perché è una carta in prestito Andiamo a vedere Cosa abbiamo completato Andiamo a prendere Tutti i punti esperienza E andiamo ad aprire Allora Il pacchettino sbloccato Pacchetto giocatori Oro premium Germania portiere Club Rouge Quindi non sarà nulla di che Ragazzi Andiamo pure avanti Mignolet Tutti non scambiabili E inutili ragazzi Tutti scartati Ragazzi I doppioni Perfetto Vediamo i pacchetti promos Abbiamo qualcos'altro Da aprire Potrei comprare anche Il bundle squadra dell'anno Ove ci sono ovviamente Le divise Molto belle ragazzi E tutti i tema Stadio Oggetto etifo Del bundle squadra dell'anno Sei giorni alla fine 115.000 crediti Direi anche no ragazzi Direi che sono Proprio crediti buttati Se c'è qualche obiettivo Magari che mi fa Guadagnare Dei punti esperienza Magari possiamo farlo Ragazzi Così raggiungiamo Prima il ventesimo livello Invece abbiamo anche Anno in rassegna 2023 Dove possiamo andare A prendere la McCabe Terzino sinistro Dell'arsenal Femminile Quindi Barclays Women's Super League Terzino sinistro Che può fare anche L'ASA Le S Quindi esterno sinistro E l'attaccante sinistro Sembra un ottimo Terzino sinistro Ragazzi Dette le attributo Molto equilibrati Con un overall di 88 E 7 stelle di gioco Tra cui anche Rapido Plus Sicuramente Un obiettivo da completare E ci dà anche Mille punti esperienza Ragazzi Ma per questo episodio È davvero tutto Questi nostri Icon Che avete visto Durante questa Partita In Rivals Abbiamo Praticamente dominato Abbiamo sbagliato Diversi gol Ragazzi Ma comunque Abbiamo giocato Molto bene È un'ottima formazione Consiglio di Fare le SCR Fernandez Trezeghe E Suker Come l'ho fatta io Comprare Bearcamp O comunque completare Questa quarta stagione Ragazzi Fino al ventesimo livello E prendere Bearcamp Se non l'avete ragazzi È un 92 Nesta Così così E anche Baresi Molto lenti Molto probabilmente Li venderò ragazzi Baresi Adesso Con le evoluzioni Ha la possibilità anche Vi faccio vedere Diventare un 94 Di overall Pagando però 200.000 crediti E completando Tutti gli obiettivi Vede l'evoluzione Dei stili di gioco Va a guadagnare Anche Mastino Il tiro È così così Ragazzi Diventa Super difensivo Con 95 E mosse abilità 2 Piede debole 4 Al momento invece Questo è il Baresi Che mi ritrovo Due mosse abilità Tre piede debole È molto male Difesa comunque 94 Avevo preso Proprio per vedere Miglioramenti Con questa evoluzione Anche Nesta Sarebbe Un buon difensore centrale Ma ho visto che è molto lento Nel possesso palla Quindi credo che Questi due giocatori Li rimetterò sul mercato Andrò a prendere qualcosa Di più forte Ragazzi Completare questa Rosa Icon Toti Con gli ultimi Difensori centrali E un portiere Toti Che ho già visto Chi ragazzi Ho detto All'inizio del video Andremo a prendere Peter Cech Icona Toti Con quattro stili di gioco Del portiere Ragazzi Tutti e quattro Questi dettagli attributo Direi Fortissimo 91 90 83 93 94 Ripiazzamento E un metro 96 di altezza Ragazzi Gran bel giocatore Peter Cech Chi compra intorno ai 380 mila Adesso è aumentato un po' Possiamo sicuramente Comprarlo Adesso abbiamo Ioris Vorrei comprare prima Altri due difensori centrali Di qualità Magari Icon Niente ragazzi Per questo episodio È davvero tutto Vi ringrazio come sempre Per tutto il supporto I like I commenti E le iscrizioni Vi chiedo come al solito Ovviamente Di continuare con questo supporto Ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao ragazzi